Potete utilizzare un burro struccante, un olio struccante o cleansing balm, che è un prodotto 2 in 1, che da olio si trasforma in latte. Ti consiglio di utilizzare degli oli specifici per la detersione, poiché contengono all'interno delle sostanze che aiutano a sciogliere meglio il sebo e che sono poi più facili da rimuovere. Massaggiamo questo primo detergente sulla pelle asciutta per 30-60 secondi, insistendo magari sulle zone che tendono di più a presentare impurità, come la zona T. Dopo aver massaggiato il detergente oleoso, puoi scegliere se rimuovere il detergente con un panno, quindi se ad esempio hai utilizzato un burro o un olio struccante. Puoi sciacquare il detergente se hai utilizzato ad esempio cleansing balm, poiché trasformandosi in latte si rimuove facilmente, proprio come se fosse un latte detergente. O puoi scegliere di passare direttamente al secondo step, quindi utilizzando il detergente schiugeno. Ti consiglio di fare la doppia detersione di sera in modo tale da rimuovere i residui di make-up della giornata e anche poi tutto lo sporco e l'impurità che si sono accumulate durante la giornata. Ma se hai la pelle particolarmente impura o se senti l'esigenza di purificare la pelle più a fondo, puoi anche fare la doppia detersione mattina e sera.